bella a tutti ragazzi l'aggiornamento di clash mini invernale il primo aggiornamento ufficiale è stato rilasciato pochissime ore fa è un aggiornamento davvero super interessante perché contiene finalmente la possibilità di giocare le 1v1 con i vostri amici ci sono dei nuovi minis ci sono i nuovi eroi e piano piano scoprirete tutte le novità i bilanciamenti che questo aggiornamento appunto ha portato oggi però voglio rispondere ad una delle domande più importanti che mi state facendo che su der come faccio ad aggiornare clash mini è già ragazzi perché se voi cliccate su clash mini che avete installato sul vostro dispositivo giustamente vi dice è disponibile un aggiornamento e se andate a cliccare su update vi dice questo prodotto non è disponibile nel tuo paese non c'è problema mettetevi un attimo comodi ragazzi perché adesso andiamo a fixare tutto allora la prima cosa da fare è scaricare una vpn quindi andiamo nel play store clicchiamo su tun o meglio digitiamo tunnel beer vpn installiamo tunnel beer vpn è davvero semplicissimo ed è gratis come applicazione apriamo tunnel beer ok se possedete già un account fate accedi altrimenti create un account gratuito una volta che avete fatto l'accesso ti dice il tuo orso è pronto quindi cliccate su effetto a il tunneling come vedete lui vi chiederà poi di scegliere dove collegarvi quindi è molto semplice potete cliccare sotto dove c'è scritto automatico e la freccetta e cliccare su canada ci chiede la connessione l'autorizzazione noi diamo ok in questo momento noi siamo connessi con il nostro dispositivo al canada questo vuol dire appunto che il nostro dispositivo è riconosciuto da qualsiasi applicazione come se fosse appunto nel territorio canadese è molto semplice perché basta che voi tirate giù la tendina del vostro smartphone e vedete che collegato con il canada ora stai navigando privatamente quindi è tutto ok da qui dobbiamo creare il nuovo account oppure se vi ricordate i dati accedere nuovamente con il vostro account che avete utilizzato per scaricare la prima volta clash mini diciamo che io voglio in questo momento aggiungere un nuovo account quindi vado su impostazioni account aggiungi account lui ci fa la verifica delle informazioni crea un account per me scegliamo i nomi tipo clash mini yeah cognome yeah avanti vediamo se ce lo accetta innanzitutto ok interesse data di nascita possiamo mettere quello che vogliamo 159 ok seleziono l'indirizzo gmail o crea uno nuovo in questo caso ce n'era uno già occupato quindi clash mini yeah yeah lo accettiamo crea una password sicura ovviamente la vado a creare e qui ci dice conferma di non essere un robot io vi invito qui a mettere il vostro numero di telefono perché vi farà fare una come si dice una ricerca no lui associando il numero di telefono vi manderà un codice che di solito non dovete neanche toccare perché fa tutto automaticamente quindi in questo campo inserite il vostro numero di cellulare una volta inserito il vostro numero di cellulare vi dice inserisci il codice di verifica a sei cifre che hai ricevuto quindi giustamente voi avrete ricevuto il cellulare io lo sto facendo da bluestacks quindi devo guardare fisicamente nel mio cellulare inserisco il codice una volta inserito il codice ci chiede ovviamente di fare delle informazioni aggiuntive noi non siamo interessati facciamo salta contro le tue informazioni del tuo account questo è clash mini iea iea chiaccio gmail.com in questo caso accettiamo tutte le informative sulla privacy e su tutto quello che ci chiede accetto ancora un secondo che lui vede le nostre scelte e una volta che abbiamo accettato ci dovrebbe dare la possibilità appunto di avere il nostro nuovo account al 100% una volta completata l'associazione del vostro nuovo account creato con il vostro smartphone ovviamente ricordatevi sempre di tenere tunnel beer acceso non vi basta altro che andare nella schermata dove avete clash mini del vostro cellulare cliccarci sopra e una volta che si apre la possibilità di fare l'aggiornamento magicamente vi darà la possibilità di aggiornare è davvero semplicissimo sono pochi passaggi spero che vi siano stati utili io vi ringrazio per avere guardato questo video mi raccomando un bel like ragazzi aiutatemi a crescere su youtube noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao